E allarme criminalità a Napoli. Alcuni giovani incensurati sono stati vittime di aggressioni. Le indagini sono in corso di accertamento. Prima un 19enne, residente nel quartiere Mercato, è stato ferito con un'arma da taglio mentre percorreva in sella la propria moto via Giovanni Antonio Campano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, alcuni sconosciuti lo hanno colpito allo sterno con un coltello. Il ragazzo è stato condotto nel pronto soccorso dell'ospedale CTO e dimesso poche ore dopo con una prognosi di 15 giorni. Il secondo episodio invece si è verificato in via Furia. Anche in questo caso la vittima era un ventenne incensurato, residente nel quartiere Stilla. Mentre era in sella ad uno scooter insieme ad un amico, due centauri si sono accostati e hanno esploso colpi di pistola, ferendono all'addome. Per fortuna il ragazzo è fuori pericolo. È stato trasportato all'ospedale CTO e ricoperto. Non è ancora chiaro il motivo dell'agguato. Ad indagare sulla vicenda sono i militari dell'arma della compagnia Napoli Stella che però hanno perso le tracce dell'unico testimone in compagnia del giovane.